Dove vai? Vieni qua! Insomma, tu invece di presentarti qui in studio stavi di là ad ascoltare tutto? No, no, tutto ve lo giuro, io non ho ascoltato niente. Ho solo sentito, pure perché mica mi potevo tappare le orecchie. Voi avete questo tono di voce così bello, forte, impostato. Pare che vado a gnotto uno trombone. Comunque, se vi può servire come informazione, qui intorno è tutto bloccato. C'è un corteo di mamme che sfila a favore dei bamboccioni. Questo lo so perché mi hanno messo pure a me assunuto un burro. Hanno ritratenevano a farci i bamboccioni. Una volta superato il metal detector, sali sul pulmanino da accompagna all'aereo. Attenzione, ce l'hanno buona parte degli aeroporti del mondo, ma quello che abbiamo noi a Napoli ha una particolarità nata di nessuno. E cioè, tu sali nel pulmanino, il pulmanino può accompagnare l'aereo, si fa tutto il giro nell'aeroporto, una ventina di minuto, grazie a Dio. Poi all'improvviso, avete la capo che vuole, e ti accompagnare non avete la russista più. Che l'aereo stai cinque metri a fianco. E tu pensi, ma chi si è già assombriato il primo mattino? Abbiamo fatto questi fatti per essere terroristi, in questo senso di essere strunzato. Dottor, non è per contraddirvi, ci mancherebbe, però anche voi ci siete caduti in questo falso luogo comune a Napoli, pazziarelli. Chi è a Napoli stiamo con i problemi? Per l'amor di Dio, siamo un popolo felice, allegro, però se poi quando ti svegli la mattina, poi ti fai affaticato a fare due ore di traffico. Venti semafori rossi, ogni semafora che ha la firma, su un marocchino che vuole la vola, tu hai appicciato il cicristallo, e chi li ha imparato a lavare il cicristallo? Un'ora e mezza per cercare un parcheggio, finalmente si libera un posto a fuori grotta, il problema è che tu fai il centro direzionale. E' normale, dottore, voglio dire, quando entri in un bar ti servono un ottimo caffè, che si pure il caffè fa schifo, dici vicino al barista, ah voglio farne tutto la vita, che il biscotto amare nel catenare, ci hanno indagato. Scusi eh, questo che diavolo c'entra con l'economia? Pazzo che c'entra, voi immaginate che bel risparmio, ad esempio a Napoli c'è un amico, lo chiamano Gennaro Cunicchio, questo ogni fine settimana porta la ragazza in un albergo per portare quella sua media, due minuti, due minuti e mezzo. Poi se stai in acqua, ti bastoni un colpo lì e si appiccia una trentina di sigaretta, grazie a Dio. Ma è vero che anche la ragazza una volta si è alzata a letto, ha detto Gennaro, Gennaro perché intaccato un manuale di sesso cinese che imparano qualcosa. Stai mettendo questi 150 euro ogni volta per questi due minuti e venti, ma chi c'ha fatto? Basta che viene un vento e si fai una citofonata cinque baciù per tutto. Si è andata a votare via coppia, fino a un mese, troviamo pure una cosa di soldi alla banca. Gennaro molto figliacamente si è andulito, ti dice, guarda ora è nudo che compro un manuale di sesso cinese. Se i cinesi duravano tanto a letto per un fatto di costituzione è perché ce l'hanno piccolo. E io questo lo so perché una volta sono stato a letto con una cinese e quando lei mi vide nudo si spaventò se ti vogliono e ci credo, chi l'ha pensato? Ma no, ti è un cocco parente cinese! Per l'amor di Dio dalle mie parti ci sono delle cose bruttissime e chi lo nega? Però c'è tanta gente che non ha nessuna colpa di ciò che accade anzi, lo subisce in prima persona e poi stanno dei luoghi comuni da decenni che sono ridicoli sul fatto che siamo un popolo che sistematicamente passa col semaforo rosso e allora tutti gli extracomunitari che faticano il semaforo di noi per chi faticano? Per i turisti! Non so ne mancano più! Voi a Napoli siete privati di fermarvi a un semaforo che è sciù e ve lo avevo pari a Brizzi una tutta la notte non avevo pulito i fari! Dovete credere una volta con una cabriolet col tetto aperto accetto uno accetto una passata di champagne e per il resto volevo dire volevo fare un ringraziamento chiaramente a tutti voi ma in particolare alla prima fila perché finalmente stasera è piena che faccio a spiegare un fenomeno strano che accade sempre durante i miei spettacoli dalla seconda in poi si riempie la prima fila è sempre vacata e allora io ho dovuto studiare un attimo questa situazione e alla fine una spiegazione me la sono data tempo fa uscì scritto sui giornali che aveva avuto un infarto dopo che dopo due settimane uscì la smentita era una diagnosi sbagliata era esofagite e tra l'altro voglio dire è anche vero a meno che ora il cuore non lo tengo con il papa non so sapere più però quando esce la smentita l'occhio umano specialmente se è una buona notizia non ci va mai a fare un incop quindi per la maggior parte è rimasto che ha avuto questo infarto ora che succede che io sotto ai faretti chiaramente sudo e se hanno il primo figlio che c'è il luogo chissà il buco chissà 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 chissà